Una credenza popolare diffusa sostiene che per preservare l'effervescenza di una mezza bottiglia di champagne avanzata si debba inserire un cucchiaino all'interno del collo della bottiglia e la stessa credenza estende questa pratica anche ad altre bevande gassate come la birra o altro. Ciao a tutti e bentornati nel canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi torniamo a parlare di metodo scientifico. È vera questa cosa? Non è vera? Beh prima di rispondere mi chiedo ma non avevano un tappo e poi ma come si fa avanzare una mezza bottiglia di champagne cioè si beve. Comunque a parte queste facezze molte persone giurano e sfergiurano che il metodo funziona e quindi vediamo. Ieri pomeriggio ho aperto una bottiglia di birra, ne ho bevuta metà e l'altra metà l'ho riposta in frigorifero con un cucchiaino. Ora andiamo a versarla. Miracolo! C'è della schiuma, ci sono delle bollicine che si stanno innalzando, ma allora funziona! Il metodo del cucchiaino funziona! No, non funziona così. In realtà nella scienza non funziona proprio così e questo è un punto logico estremamente importante da capire. Se voglio verificare che la teoria del cucchiaino funzioni non basta ripetere questo esperimento uno, due, tre, anche cento volte. Se per cento volte io ripetessi questo esperimento e vedessi la formazione della schiuma e delle bollicine non avrei ancora dimostrato nulla e questo è un punto logico fondamentale da capire e pervade tutta la scienza. Quello che devo cercare di fare è falsificare la mia teoria, cioè cercare di distruggerla. I scienziati passano buona parte del loro tempo a cercare di distruggere, di mettere alla prova le teorie inventate da loro stessi o da altre persone, in modo tale da capire se la teoria ha dei punti deboli e se può essere quindi, diciamo, abbandonata e sostituita con qualcosa di più solido. In questo caso mi aspetto dalla teoria che se metto in frigorifero una bottiglia aperta ma senza il cucchiaino, beh, l'effervescenza dovrebbe scomparire completamente. È quello che ho fatto e adesso andiamo a vedere. Questa è una seconda bottiglia aperta come la prima nello stesso momento e adesso andiamo a versarla, vedete che non ha il cucchiaino. Avete visto? Beh, addirittura qui ne è uscita, sembra che ce ne sia un po' di più, forse perché l'ho versata da un'altezza diversa, ma il punto importante è che anche senza cucchiaino rimane l'effervescenza. Questo è quello che nella scienza si chiama il controllo, il termine di paragone. Io ne ho sempre bisogno per poter fare delle verifiche di una qualsiasi teoria scientifica, altrimenti non sto dimostrando proprio nulla. La cosa più rigorosa da fare in un laboratorio sarebbe di fare delle misure esplicite, misurando quanta anidire carbonica è rimasta presente con il cucchiaino e senza il cucchiaino e fare quindi tutti i confronti. Io non ho potuto fare questo tipo di misure, mi sono limitato a fare l'esperimento due o tre volte, ho assaggiato e ho notato che non c'è una differenza di caratteristiche organolettiche, ma c'è chi l'ha fatto per esempio sulla bottiglia di champagne e ha fatto tutte le varie misure, poi vi metto l'articolo in descrizione, e ha trovato che anche per lo champagne, non mi stupisce ovviamente, non c'è assolutamente nessuna differenza tra il mettere il cucchiaino e non metterlo. Ma cosa c'entra questo con la scienza? Vuol dire che se io oggi prendo un succo di limone e domani mi passa il raffreddore, non ho dimostrato che il limone mi fa passare il raffreddore. Se io oggi prendo una pasticca di oscillococinum omeopatico e non prendo nessuna malattia in inverno, non ho dimostrato nulla sull'efficacia di questa cosa. Questo è un punto logico fondamentale. È però difficile spesso da accettare perché il nostro cervello funziona in una maniera diversa. Noi cerchiamo delle conferme alle nostre teorie, noi non cerchiamo quasi mai di distruggerle appositamente. È per questo anche che la pratica della scienza e la comprensione stessa anche della scienza è piuttosto controintuitiva e anche difficile a volte. Come mai questo mito persiste? Beh, perché molte persone, che ripeto anche i miei amici, spergiurano che questo trucco funzioni, beh, probabilmente si aspettano che senza cucchiaino l'anidride carbonica scompaia completamente in 24 ore. Quindi fanno l'esperimento senza il controllo, prendono la bottiglia, fanno come ho fatto io, lo versano in un bicchiere, vedono l'effervescenza e attribuiscono erroneamente questa effervescenza rimasta, questa anidride carbonica rimasta nella birra o nello champagne al cucchiaino e non al fatto invece banale che l'anidride carbonica ha bisogno di un certo tempo per andare via, se io la lascio nella bottiglia e non la scuoto o non la verso in un bicchiere. Visto che il cucchiaino non funziona, la teoria non funziona, il fatto non sussiste, è inutile andare a cercarsi delle spiegazioni pseudoscientifiche, però se cercate un po' sul web invece queste abbondano e non è difficile inventarsi delle spiegazioni che apparentemente possano spiegare un fenomeno di questo genere. Per esempio io potrei inventarmi la teoria del cucchiaino che in qualche maniera blocca le molecole di CO2 che fluttuano nella bottiglia e qualche molecola di anidride carbonica invece di uscire dal collo della bottiglia poiché c'è il cucchiaino questa va a rimbalzare e va a ritornare dentro mantenendo la CO2. Potrei anche infarcire questa pseudospiegazione con una terminologia più tecnica, potrei dire il cucchiaino aumenta il libero cammino medio delle molecole di CO2 all'interno del recipiente. In realtà però sto solo facendo una fuffa di spiegazione scientifica proprio perché manca il fatto che io devo spiegare. Purtroppo questo tipo di pseudospiegazioni fuffo scientifiche abbondano sul web e se tutto sommato non toccano chissà quale aspetto fondamentale della nostra vita se parlano di cucchiaini nella bottiglia o di, non so, nascite di bambini a seconda dell'effetto della luna in casi in cui si parla di salute e di alimentazione, beh in questo caso possono fare anche dei danni queste credenze. Insomma lasciate perdere il cucchiaino, se avete una bottiglia e non avete un tappo potete benissimo usare una pellicola trasparente e ricordatevi che per mettere alla prova una teoria scientifica bisogna sempre cercare di distruggerla. Un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!